E' il luogo in cui il parco si rapponta, in cui posso scoprire i suoi segreti che nasconde al nostro sguardo. E' l'inizio di un viaggio nella consapevolezza del nostro ambiente. E' un'immersione nella natura per tornare bambini alla scoperta del mondo che ci circonda. E' un luogo dove perdersi in emozionanti esperienze con i propri familiari e amici per poi ritrovare se stessi. Quando imparare diventa emozionante. E' un'esperienza indimenticabile che stimola curiosità, creatività e fantasia. E' un luogo capace di cambiare colore, profumo, vocio per accogliere appassionati di natura. E' attività e scoperta, tante curiosità e giochi immersi nella natura. E' un luogo dove provare a fare innamorare chi viene a trovarci della bellezza che ci circonda. Apro il cancello e dall'anfiteatro sale il profumo delle voci dei bambini. Un profumo che mi avvolge, mi prende per mano e mi accompagna nel bosco. E' un luogo dove poter conoscere la natura dietro casa. Luogo fantastico in cui si può esplorare e conoscere la natura. Dove prati, boschi, acqua e uomo si possono incontrare. Dove prati, boschi, acqua e uomo si possono incontrare. Ma cannava di video, spiando via canale. Spiando via canale. 방amente c'era il mio avatore di chiunitale. Loico che si può esplorare. Grazie a tutti